ciao benvenuto o bentornato su statica facile in questa lezione e mi occupo della trave appoggiata e appoggiata carrello cerniera con carico concentrato in posizione qualsiasi però se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e attiva la campanella per gli avvisi se la lezione ti sarà stata utile lascia anche il tuo like e come vi dicevo in questa lezione applicheremo le equazioni indefinite di equilibrio alla trave appoggiata e appoggiata facendo anche i diagrammi delle sollecitazioni taglio e momento il carico sarà di tipo concentrato verticale in posizione generica e adesso buona lezione consideriamo questo schema statico con trave rettilinea orizzontale e carrello a sinistra in a e cerniera a destra in b il carico concentrato verticale f è posizionato a distanza a dall'appoggio a e a distanza b dall'appoggio b la luce è l istituiamo un sistema di riferimento x y che abbia origine al carrello le ipotesi operative di questo esercizio sono le seguenti la trave piana rettilinea i carichi sono ortogonali all'asse della trave e manca il carico distribuito del tipo momento ebbene in questo caso appunto sotto queste ipotesi le equazioni indefinite di equilibrio porgono che la derivata prima di tx in dx è uguale a meno px la derivata prima del momento in dx è uguale a tx la funzione taglio tx è uguale all'integrale del carico in dx la funzione mx è uguale all'integrale della funzione taglio in dx questo caso è inoltre caratterizzato dalla sezione c che è sede di una forza concentrata quindi la sezione c sarà sede di discontinuità nelle funzioni del taglio e del momento e allora dobbiamo aggiungere le condizioni di discontinuità la prima condizione di discontinuità ci dice che la somma tra la discontinuità del taglio e il carico p concentrato nella sezione sede di discontinuità è pari a 0 nel nostro caso p è uguale ad f quindi la discontinuità del taglio delta t sarà uguale a meno f la seconda equazione di discontinuità è quella relativa al momento che ci dice che la discontinuità della funzione momento delta m più il momento concentrato nella sezione sede di discontinuità è 0 però nel nostro caso nella sezione c non c'è alcun momento concentrato così come non c'è nessun'altra sezione quindi alla fine avremo che delta m è uguale a 0 cioè non avremo discontinuità nel diagramma del momento in verità un certo tipo di discontinuità si verificherà nel diagramma del momento però ve lo dico quando ci arriviamo comunque essendo presente una sezione c di discontinuità queste equazioni valgono sia a monte che a valle della sezione c ma non nella sezione c ma questo era ovvio procediamo all'integrazione delle relazioni a nell'intervallo 0 a cioè per x che va da 0 ad a a è la scissa della sezione di discontinuità c nel tratto a come pure nel tratto b il carico distribuito è nullo quindi avremo tx uguale a integrale di 0 in dx e allora la funzione tx sarà proprio la costante di integrazione cioè tx uguale c1 integrando la funzione taglio che è c1 avremo mx uguale a c1x più c2 seconda costante di integrazione adesso passiamo al tratto cb cioè al tratto a valle della sezione c tra x uguale ad a e x uguale ad l intanto dobbiamo imporre le condizioni b cioè le condizioni di discontinuità nella sezione c avremo quindi che nella sezione c cioè per x uguale ad a e con più precisione sulla faccia destra della sezione c il taglio avrà valore c1 meno f perché applichiamo l'equazione delta t uguale a meno f ovvero la condizione di discontinuità il momento in x uguale ad a sarà invece ma uguale a c1 per a più c2 questa relazione si ottiene inserendo il valore a nell'espressione mx uguale a c1x più c2 e tenendo presente che in c non vè discontinuità di valore del momento infatti delta m è uguale a 0 adesso dobbiamo integrare nel tratto cb tenendo presente le condizioni di discontinuità per x uguale ad a cioè tenendo presenti le relazioni d e allora nel tratto cb il carico distribuito è sempre nullo quindi abbiamo tx uguale a integrale di 0 in dx questo porta alla conseguenza che tx dovrà essere costante ma siccome t in a vale c1 meno f e allora significa che la funzione tx sarà c1 meno f per quanto riguarda il momento flettente continua ad essere valida la relazione m di x uguale a c1x più c2 perché come abbiamo già detto il momento non presenta discontinuità però dobbiamo tenere presente la discontinuità di taglio f perché la presenza di f comporta un momento aggiuntivo che chiameremo k e allora dobbiamo vedere come è fatto k consideriamo quindi una generica sezione compresa tra c e b e che abbia scissa x la forza f avrà rispetto ad x un braccio di x meno a e quindi produrrà un momento pari a f per x meno a questo momento tenderà alle fibre superiori della trave in x e quindi avrà il segno negativo e allora k sarà uguale a meno f che moltiplica x meno a e allora l'espressione del momento tra x uguale ad a e x uguale a l sarà mx uguale c1x più c2 meno f per x meno a quindi concludendo tenendo conto delle relazioni a che sono la diretta espressione dell'equazione indefinite di equilibrio delle equazioni b che sono l'espressione della discontinuità dei diagrammi di t e di m e delle relazioni di che danno i valori di t e di m nella sezione c ovvero alla scissa a noi potremmo dire che per x compreso tra 0 ed a avremo tx uguale a c1 ed mx uguale a c1 x più c2 mentre per x maggiore uguale ad a e minore uguale a l avremo tx uguale a c1 meno f ed mx uguale a c1 x più c2 meno f per x meno a non ci resta allora che calcolare le costanti di integrazione c1 e c2 considerando le condizioni al contorno queste condizioni consistono nel fatto che il momento è nullo sia in a che in b ovvero per x uguale a 0 e per x uguale ad l questo si verifica perché in a abbiamo un carrello e in b abbiamo una cerniera vincoli che non sono in grado di sviluppare una reazione tipo momento e in più non ci sono momenti concentrati quindi poniamo nelle due espressioni del momento il valore di 0 alla scissa x uguale a 0 e x uguale ad l il che ci porta a concludere dopo gli opportuni passaggi che c2 uguale a 0 e c1 uguale ad f per b fratto l quindi per x maggiore uguale a zero e minore uguale ad a avremo t di x uguale ad f per b su l ed mx uguale ad f per b su l per x per x maggiore uguale ad a e minore uguale ad l avremo invece tx uguale ad f per b su l meno f ed mx uguale ad f per b su l per x meno f per x meno a note le funzioni tx ed mx passiamo al tracciamento dei rispettivi diagrammi la funzione taglio tx rappresentata da un tratto diretta orizzontale come dicono appunto le equazioni di tx quindi procediamo prima di tutto col tracciamento della fondamentale che coincide con l'asse della trave in x uguale a 0 il valore del taglio è f per b fratto l si verifica immediatamente una discontinuità perché questo valore coincide con la reazione vincolare del carrello a da x uguale a 0 ad x uguale ad a il taglio si mantiene costante e quindi è rappresentato da un tratto diretta orizzontale ricordiamoci che i valori positivi del taglio vengono posti convenzionalmente al di sopra della fondamentale in x uguale ad a cioè in corrispondenza della sezione c si ha la discontinuità del diagramma del taglio pari alla forza concentrata applicata f osserviamo che la forza f ha verso opposto alla reazione ray e quindi anche al taglio a sinistra della sezione c quindi la discontinuità sarà diretta verso il basso cioè avrà lo stesso verso di f quindi avremo un tratto verticale rettilineo di ampiezza f dalla scissa x uguale ad a alla scissa x uguale ad l il valore del taglio sarà t di x uguale f per b su l meno f facendo gli opportuni passaggi questa formula ci restituisce meno f per a fratto l quindi da x uguale ad a x uguale ad l avremo un tratto di diagramma del taglio costituito da un tratto diretta orizzontale in x uguale ad l avremo la discontinuità finale di meno f per a su l che coincide con la reazione vincolare verticale della cerniera b convenzionalmente la parte negativa del diagramma del taglio si pone al di sotto della fondamentale osserviamo che in valore assoluto f per a su l è maggiore di f per b su l e questo fisicamente si spiega perché la forza f è più vicina alla cerniera b piuttosto che al carrello a quindi una maggiore aliquota di f andrà a finire sull'appoggio di destra passiamo al diagramma del momento però prima di disegnare la fondamentale proviamo ad intuire quale sarà la deformazione indotta da f nella nostra trave ed è quella che vedete in figura quindi dobbiamo presumere che le fibre tese siano quelle inferiori che in figura sono disegnate in rosso e allora prevediamo un diagramma del momento tutto positivo e quindi disegnato al di sotto della fondamentale e quindi tracciamo qui la fondamentale ai fini del tracciamento del momento flettente cominciamo ad osservare le espressioni del momento flettente da queste ricaviamo che si tratta di tronchi o tratti diretta perché sono funzioni di primo grado in x valutiamo quindi il momento nelle sezioni significative cominciamo dalle sezioni in x uguale a 0 e in x uguale a l in queste due sezioni il momento sarà certamente nullo primo perché i vincoli che abbiamo applicato non sono in grado di esplicare reazioni di tipo momento secondo perché non ci sono momenti concentrati e terzo perché se sostituiamo i valori di x nelle due equazioni del momento otterremo 0 e allora andiamo a sostituire lo 0 nella prima espressione mx uguale ad fb su l per x e andiamo a sostituire al posto della x l nella seconda espressione del momento cioè quella da c a b mx uguale f per b su l per x meno f per x meno a a passaggi avvenuti come vedete il momento è nullo sia nella sezione iniziale x uguale a 0 e sia nella sezione finale x uguale a l la terza sezione caratteristica che ci interessa ai fini del tracciamento del momento flettente è la sezione c perché è sede di discontinuità del taglio sede cioè di forza concentrata calcoliamo quindi il valore del momento nella sezione c ovvero alla scissa x uguale ad a e lo facciamo in tutte e due le equazioni del momento sia per x compreso tra 0 ed a e sia per x compreso tra a ed l e perverremo allo stesso risultato ma uguale ad f per b per a fratto l riportiamo quindi questo valore nel diagramma in corrispondenza della sezione c alla scissa x uguale ad a e poi con dei tratti diretta raccordiamo il valore 0 della scissa x uguale a 0 e il valore 0 della scissa x uguale ad l alla fine i diagrammi sono quelli che vedete per quanto riguarda il diagramma del taglio si osserva questa discontinuità in corrispondenza della sezione c perché c'è una forza concentrata che non porta a discontinuità di valore nel diagramma del momento tant'è vero che nella sezione c il momento è f per b per a diviso l e questo momento può essere calcolato sia da destra che da sinistra perché da destra si fa r by per b e da sinistra si fa r a y per a che ci porta allo stesso risultato f per b per a fratto l però comporta un cambio di direzione nel diagramma del momento cioè si presenta una cuspide quindi dove c'è la discontinuità del taglio noi avremo un cambio di direzione nel diagramma del momento ovvero quello che comunemente si chiama una cuspide cioè un cambio brusco della derivata del momento che è il taglio e siccome appunto c'è un cambio brusco di valore di taglio quindi un cambio brusco di derivata del momento è corretto che cambi anche la direzione della tangente al diagramma del momento ma siccome il diagramma del momento è lineare praticamente cambia il diagramma stesso e anche questa è fatta spero che la lezione ti sia stata utile però ricordati di iscriverti al canale di attivare la campanella e se ti è piaciuta la lezione lascia il tuo like che è importante per il canale arrivederci alla prossima lezione buon studio